Certezze, dicono i sindacati, non ce ne sono più. Lo stipendio di gennaio per i dipendenti dell'Ast non è ancora arrivato e tantomeno si intrave dall'orizzonte quello di febbraio. Una situazione di incertezza che va avanti ormai da tempo e che coinvolge l'intera azienda siciliana di trasporti. A mancare infatti non sono solo i soldi per gli stipendi ma anche per il legasolio, secondo quanto riferiscono le organizzazioni sindacali. A causa dei crediti dell'azienda vantati nei confronti della regione presto non sarà più possibile fare rifornimento e mezzi potrebbero restare fermi. Senza stipendi, esatto. Poi volevo dire questo al governo regionale che visto che hanno stabilito che l'azienda siciliana di trasporti è un'azienda strategica e che si parla di ricapitalizzazione, si parla di ripotenziamento dei mezzi, però tutto questo viene al contrario, cioè si predica bene e si rassola male perché non sta avvenendo questo, sta avvenuto il contrario perché noi abbiamo un autoparco obsoleto, avessiamo il ritardo di stipendi, l'organizzazione è zero, quindi io invito tutto il governo regionale o chi è interessato a andare a visitare i nostri depositi per vedere eventualmente, toccare con mano la realtà perché parlare dall'ufficio è una cosa, viverla è un'altra cosa. A due anni che ogni mese per burocrazie varie i lavoratori dell'Astia ormai non hanno più certezza di quando prendere lo stipendio, questo si protrae da due anni quindi i lavoratori ormai sono stanchi di questa situazione, ma non solo di questa, il problema è che è sempre difficile riuscire a garantire un servizio costante perché ci sono varie scadenze come le assicurazioni come il gasolio, come la manutenzione dei mezzi che hanno bisogno di avere soldi per poter andare avanti e la regione in questo momento che deve dare dei soldi all'azienda siciliana e ai trasposti non li mette a disposizione.